I primi ad arrivare in mattinata al centro mondo migliore di Rocca di Papa sono stati gli ispettori della ASL. Hanno controllato che tutto fosse in regola e poi sono andati via. Negli stessi minuti da Messina, a bordo di due pullman, partivano i 100 migranti che la Chiesa Italiana accoglierà qui, in questo centro, alle porte di Roma. Arriveranno in serata e troveranno ad accogliergli altri 300 richiedenti asilo di 35 diverse nazionalità, ma troveranno anche qualche polemica e una manifestazione di dissenso organizzata dalla forza di estrema destra Casa Pound. È stata una scelta precisa quella di tenere insieme ancora per qualche giorno il gruppo dei migranti della Diciotti, prima di trasferirli in alcune delle tante diocesi che da Torino ad Agrigento in queste ore hanno dato la propria disponibilità. Va bene che siano accolti anche insieme perché hanno bisogno di assistenza medica, hanno bisogno di psicologi, hanno bisogno... e poi veramente questo mi sta commuovendo da tutte le Chiese d'Italia, io ho il telefonino pieno di messaggi, sono i Vescovi che dice io ho 20, io ho 30, e quindi questa è la disponibilità delle nostre Chiese, ma la disponibilità delle nostre Chiese è la disponibilità della nostra gente. A Messina nei container del centro di accoglienza straordinario sono rimasti 39 migranti, una parte di loro andrà in Irlanda, l'altra in Albania. Come però è ancora un rebus, l'Albania infatti non fa parte dell'Unione Europea e i migranti non possono essere trasferiti in moto coatto, soprattutto verso un Paese che non offre le stesse garanzie dell'Unione Europea sul fronte dei diritti dei richiedenti asilo.